Siamo ancora qui dopo 16 anni per raccontarvi della nostra bellissima e meravigliosa avventura del Corso Attori dell'Università di Pavia e del Teatro Fraschini di Pavia. Sono 16 anni che facciamo i nostri trienni, formiamo i nostri ragazzi per la maggior parte universitari ma non esclusivamente. Io faccio lezione ma anche i nostri altri docenti che fanno movimento, danza, canto, lettura poetica, ci sono diversi materie con diversi docenti che vengono da tutta Italia. Metteremo in scena i testi scritti da altrettanti giovani, sempre dell'Università di Pavia, che hanno seguito un corso di drammaturgia con il professor Fabrizio Fiaschini, coadiuvato dal drammaturgo Edoardo Erba. Questi giovani drammaturghi hanno scritto delle brevi pièce sulla storia della strage di Utoia. È stata una strage terribile, poco ricordata in effetti, di giovani, di giovani come loro, come i nostri ragazzi che frequentano il Corso Attori qui all'Università e come i ragazzi che hanno scritto queste pièce drammaturgiche. Sarà sicuramente un bellissimo momento di crescita civile, così, che è stato un'esperienza così come il teatro è, di incontro e perché no, anche se l'argomento non è allegrissimo, comunque nel teatro coesistono tutte le emozioni, i sentimenti, le istanze di gioia, di riflessione. L'importante è condividere. Grazie a tutti.